Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' differente la risposta di quella normale, vero Michele? E' uguale. E' uguale eh? Si. La risposta motore è uguale. Si. Sto andando neanche un quarto di mezzo a mezzo. E' uguale. E' uguale. E' uguale. Stiamo a salire, se c'è il gomotor è andato a scendere. È normale. La turbina non è come l'elica che risponde subito. Questa c'è un attimo di ritardo quando gli dai il motore, non è subito la risposta. E' un calore di tempo. Calore? 3 minuti adesso. 3 minuti adesso. E' rimasto intero. Che cosa? Tutto il modello, solo le ha. E' quella fotoviera. E' quella fotoviera. E' assai. Non sta giusto in città? No. No, so io che andavo piano comunque. Dove hai cercano lupi? Questo fa con la batteria a cargo? Eh si, che tira. Il volo è bello eh? Si si. E' molto stabile. E' pesantuccia. Quindi la stabilità la tiene. 4 minuti. Non suona? No, non ho fatto suona io. Sì. Ma dove non vinto? Ma Michele. L'avello. Appesa sta. L'avello, scusate. Melfi. Vuoi dire la batteria? Perché è appesa Michele. In questo momento è appesa. Vado, vado, mi trovo il chio. A destra? Si. Allora. Appesa, devo fare la batteria. Le batteria cente 5 minuti. Si. Una faccia. Una dieci minuti. Deci. Quindi non necessariamente con il motore dentro. Voi parlare di nuovo Michele.